In occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti di sempre, Pitturiamo indice il premio internazionale dedicato a questo grande artista per pittori, scultori, fotografi e grafici. In palio per il primo classificato una mostra personale per sei giorni in galleria a Roma, in via Margutta, un luogo intriso di arte, cultura e tradizione. Per i classificati dal secondo al decimo posto una mostra collettiva sempre in area contesa arte. Per tutti i partecipanti una videoesposizione, un riconoscimento con una bellissima e prestigiosa targa ricordo, uno splendido oggetto di arredamento sul quale sarà stampata la tua opera d'arte, con i dati indicativi della manifestazione, un attestato di partecipazione e la promozione su tutto il network di Pitturiamo. Ciao, io sono Nino Argentati, ho ideato e realizzato Pitturiamo e dal 1995 mi occupo di promozione online e web marketing, aiutando gli artisti come te a farsi conoscere in rete. Il premio internazionale Raffaello Sanzio è un evento davvero importante per Pitturiamo e per tutti gli artisti che decideranno di partecipare. La giuria, composta dai critici di Pitturiamo, nonché dalle galleriste Tina e Teresa Azzurlo, da Marcella Mondo, art dealer per Pitturiamo e dal sottoscritto Nino Argentati, amministratore di Pitturiamo, individuerà i 10 vincitori del premio dedicato a Raffaello Sanzio. Tutti i vincitori riceveranno anche una critica alla loro arte da parte dei nostri critici, con la quale potranno arricchire il loro curriculum. È un evento che può aiutarti moltissimo nella tua crescita artistica e che potrai sfruttare indipendentemente se sarai uno dei vincitori o meno, per promuovere al meglio la tua arte. Non capita tutti i giorni infatti di poter esporre in via margutta e avere anche la possibilità di vincere un premio internazionale, rilasciato da una giuria di veri esperti del settore. La quota di partecipazione è davvero esigua e potrai pagarla solo se sarai ammesso alla manifestazione. In questa fase dovrai semplicemente compilare il form di iscrizione e inviare l'immagine di una tua opera. Nessuna somma ti sarà richiesta fin quando non sarai eventualmente ammesso al premio. Allora fai così, invia la tua adesione e l'immagine di una tua opera entro il 15 agosto 2020. Attendi l'esito della giuria per sapere se sei stato ammesso al premio. Effettua quindi il pagamento mediante una delle modalità previste che ti saranno comunicate solo dopo la eventuale selezione. Ricevi a casa tua il pacco contenente il premio Raffaello Sanzio, l'attestato e la stampa della tua opera. Attendi l'esito della giuria che deciderà i vincitori soltanto fra coloro che avranno completato la partecipazione con il pagamento della quota. In caso di vittoria invia la tua opera o le tue opere in caso dovessi essere il primo classificato in galleria a Roma. Partecipa quindi al vernissage della mostra giorno 18 settembre 2020. Qualora non dovessi essere uno dei vincitori poco male, avrai comunque partecipato ad un premio prestigioso che potrà arricchire il tuo curriculum. Potrai dire di aver esposto in via Margutta a Roma e far conoscere a tutti i tuoi ammiratori le tue capacità artistiche. Pitturiamo nel frattempo farà tanto per te, promuovendo la tua arte su tutti i canali social, ai primi posti su Google e su tutto il proprio network. Allora mi raccomando non perdere questa occasione, è davvero importante. Un caro saluto!